Ma le tecniche di memoria funzionano davvero? Ci sono sempre più persone che mi fanno questa domanda perché sembra quasi impossibile di aver dedicato troppo tempo e tanti tanti anni a un metodo inefficace. Beh le abitudini certo sono difficili da scardinare e la cosa fantastica è che in realtà quando vedo che ci metto molto molto meno a ricordare l'abitudine viene scardinata immediatamente quindi sembra un po' una contraddizione con ciò che ho detto prima in realtà è immediato. Perché? Ecco perché i corsi sono pratici immediati e perché funzionano davvero? Intanto è come se nel 2021-2022 continuassimo ad utilizzare come mezzo di trasporto non so il calessio, il cavallo o il piccione viaggiatore per spedire la posta. Certo può funzionare ma a che prezzo, con che lentezza. Quali sono i motivi per cui è importante utilizzare una strategia di memoria e perché funzionano? Prima cosa del motivo per cui funzionano, te lo scrivo proprio così almeno lo ricordi di più, prima cosa funzionano perché sono, te lo scrivo, sono basate sul funzionamento del cervello. Quindi si basano proprio su come funziona il nostro cervello, capisci? E questa è la cosa bella perché le neuroscienze spiegano che la corteccia visiva rispetto ad altre aree è molto molto più ampia. Secondo motivo sono comprovate, parlo per me, da 28 anni di esperienza. Terzo motivo utilizzano entrambi gli emisferi cerebrali, cioè in che senso? Si va a utilizzare sia la razionalità che la parte più immaginifica, più creativa. Ecco perché è fondamentale. Pensa, ti faccio solo un esempio banale. Quando una persona si chiama come tuo papà, tua mamma, tuo figlio, tua figlia, il marito, la moglie, in modo automatico cosa fa il cervello? Associa, perché il nostro modo naturale di ragionare è attraverso le associazioni. Noi ragioniamo con le associazioni. Invece se tu il nome lo ripeti, cosa succede? Dopo poco, ciao, lo dimentichi. Che mi è successo? Ecco perché ti invito al minicorso in modo da imparare subito a raddoppiare dalla serata stessa la capacità di apprendimento. Perché vedi proprio almeno un raddoppiamento delle tue potenzialità. Perché basta sapere come fare, ci manca solo libri d'istruzione. Ti aspetto e te lo dico forte di 28 anni di esperienza. Ciao, ciao, ciao.